Musica Hello guys, Render here, benvenuti in questo nuovo video qui in FTB Allora, nello scorso episodio, per chi non se lo ricordasse, abbiamo completato casa Come vedete abbiamo fatto la parte inferiore e la parte superiore lasciata come era in principio Ecco perché ci piaceva, abbiamo messo il letto che poi forse sposteremo perché mi sa che non è al centro Perché mi sa che è lì, è al centro, però non fa niente E poi vediamo, per il momento iniziamo a spostare le prime cose importanti di qua Quindi andiamo a prendere le cose faiche Aspettate che mi metto meglio le cuffie, perfetto così Allora, qui abbiamo, questi vanno nel qui, questo va qui, perfetto Allora, questi macchinari dovrei lasciarli effettivamente qua, per il momento almeno Quindi, questi qua sotto ovviamente non li spostiamo perché non avremo lo spazio Pur volendo non avremo proprio lo spazio Mentre, 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 vi faccio vedere cosa ci andiamo a portare Allora, andiamo su, andiamo a smontare questa roba qui Questa roba qui che va smontata in questo modo qua Quindi ci andiamo a smontare pian pianino tutte le cosine Allora, questo è il nostro wireless receiver, ok Poi questa è la chest che non abbiamo mai utilizzato Questo è il drive Il drive con tutti, con tutti i storage, perfetto Stacchiamo il drive Stacchiamo il nostro bellissimo ME controller E questa è la prima cosa che ci dobbiamo andare a portare A questo punto, quello che io in realtà vorrei fare Era un'altra cosa Adesso vi faccio vedere Se noi ci andassimo Ah, in realtà avevo anche un'altra idea Potevo lasciare tutto qui E portarmi praticamente solamente tipo il crafting di qua Però sarebbe stato un macello Sarebbe stato un macello Non so se era comodo o meno Quindi preferisco Preferisco lasciare Tutto come era, ecco, diciamo In maniera normale E tranquilla No, la chest Non la volevo mettere così La volevo mettere prima questo Prima il drive Poi la chest E sopra il drive Il wireless controller Con il point Perfetto Così Allora Ci serve ovviamente l'energia elettrica Per l'energia elettrica Adesso dobbiamo fare una cosa Lunghissima Brothers Proprio Uff Uff, uff, uff E ho lasciato ovviamente tutti i materiali stanno là dentro Quindi ho fatto una stronzata Perché alcune cose Ce le dobbiamo prendere prima di spostare il tutto Ovviamente Dobbiamo fare Un paio di backbox Un paio di cose Un paio di tutto Perché lasceremo l'elettricità lì Quindi aspettate un attimo Ci portiamo questo Questo E questo Perfetto Con tutti, ovviamente Tutti i driver Perché sennò Non c'è un cazzo Praticamente Quindi Vai così Andiamo qua Andiamo qua Colleghiamo un attimino Come in 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 partenza In generazione In tutto La nostra roba Facciamo così Questi a posto Benissimo Andiamo a prenderci un attimo Un po' di cavi Allora Cable Ok Ne abbiamo davvero pochi Cazzo E Vabbè Intanto li facciamo Non è un problema No Facciamo Così No Com'era? Sì così Poi serve il silver Sil Sil Ok E poi il vetro Abbiamo il vetro Mi sa di sì No Non ne abbiamo Ne abbiamo pochissimo Abbiamo della sand Però mi sembra di sì Perché la sand E infatti La sand L'abbiamo L'avevo Messa a fare Allora Abbiamo un problema Questi macchinari Ce li dobbiamo portare Tutti di là Ce li dobbiamo portare Tutti di là E io penso A questo punto Forse L'energia Fatta dai solar panel Ci convenga Portarcela Nel senso Ci portiamo Ovviamente Solar panel Tipo li mettiamo Sul tetto E oppure In una struttura Dietro Fatta apposta Tipo una tettoia Per il solar panel Potremmo anche fare Una tettoia Per il solar panel Serve una cosa carina E poi potremmo Andarne ad aggiungere Degli altri Ok Questa potrebbe essere Una buona idea Tanto ci dobbiamo fare Un po' di questi Ok Glass 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 Niente Abbiamo finito Facciamoci un po' di sand Benissimo Vai Fammi la sand Sandizzami tutto Perfetto Allora abbiamo Abbiamo un problemino Qua dietro abbiamo La Lender chest Per la cobblestone Ma non è un problema Perché quella Possiamo Possiamo sempre Fermarlo Un attimo Dopo E Sto un attimo Pensando E bros Perché 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 ci sono alcune cose Che Effettivamente Ci dobbiamo portare E dobbiamo Crearci Un bel po' di spazio Tipo questa roba qua Allora Andiamo un attimo giù E mannaggia te Allora Andiamo un attimo qua Rifacciamo La sand Ok Sta ancora Smacerando Così tanto tempo Ci merde Ci merde Ste merde Ok Allora Io direi Inizio a portarmi le cose Proprio Più stupide Quelle proprio che Non utilizziamo Tipo che ne so Questa crafting table Per il momento Quindi facciamo così Ovviamente sono pieno Quanto non so che cosa Quindi via Da questo apposto Questo apposto Le valvole L'item router Il brass Ok Quindi iniziamo a prenderci Queste cose qui Che sono quelle che Non utilizziamo più Ecco Ti pareva che qua Non c'era il mondo Mannaggia a me Mannaggia a me Cosa posso lasciare L'iron cosi L'obsidian I copper cable Ok Qua Ancora Cosa ci sono Ok 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 Perfetto Andiamo a portare Prima di tutto Dobbiamo mettere Il portale Dobbiamo mettere Nell'altra casina Mannaggia a te Mannaggia Mettiamo il portale Nell'altra casa Così siamo tranquilli Facciamo portale Qui Così Perfetto Buona Ok Allora qui Iniziamo a mettere Le crafting table Quindi crafting table Perfetto Andiamo Andiamo a casa Qua ci dobbiamo iniziare A portare un po' Di cosine Allora Ancora un po' di cavi Ci servono ancora un po' di cavi Non moltissime Ancora un po' di cavi Poi facciamo un paio di Buttbox E ci dovremmo essere E ci dovremmo essere Tutututu Allora 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 Facciamo 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 Che Io sarei tentato A portarmi da sottoterra Dalla stanza sotto Ecco per intenderci Proprio direttamente L'energia In Dell'MFSU Per Senza convertirla La converto dopo Perché sennò sarebbe stupido Quindi togliere questo convertitore Tanto su Non ci dovrebbe arrivare più niente Portarmi l'energia Da qui Da qui A dove Sì vabbè Da qui Diciamo Me la porto Mi faccio un tunnel Me la porto via E Tipo da qua Tanto c'è la minimappa Apriamo un attimo No 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 La mappa X Ok Praticamente dovremmo andare dritti E poi girare Quindi è anche abbastanza semplice Allora Brothers Facciamo così Io vado a farmi Appunto questa Questa scavatona Ci vediamo Pena fisco la scavata Arrivo più o meno sotto casa E poi Ci organizziamo A tra poco Ok bro Allora Il tunnel l'ho fatto Vi faccio vedere Allora Praticamente farà così Guardate Così È anche abbastanza Corto Pensavo molto peggio E arriviamo Direttamente qua Che è praticamente Dove andremo a mettere Ecco Il computer Eccetera 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 Allora Potrei fare Volendo Una stanza sotterranea Arrivato Io ovviamente Mi sono fatto un tunnel Perché volevo capire Un attimo qual era la distanza Ma potrei farmi Tranquillamente Una stanza sotterranea In cui si scende Tipo anche stesso Da qui Volendo Facciamo il continuo Della scala Da sotto Facciamo così Che scende E ci facciamo Una stanza sotterranea Dove andiamo A mettere Lo smistamento Delle varie cosine Quindi che ne so Un po' I cavi dell'energia Questa roba qua Potremmo anche smontare In realtà tutto E portarcelo là Però Non lo so Vorrei lasciarlo Una parte del vulcano Attivo Cioè utilizzabile Vorrei lasciarlo Perché è un pezzo Di FTB E voglio Voglio lasciarlo Ecco tutto qua Quindi Ovviamente L'ME Non funziona Il coso Perché è staccato Il wireless Andiamo a Piazzare un attimo Questa roba su Scusate One moment Ok Perfetto Allora io direi Che ci possiamo organizzare Appunto in questa maniera qua Facciamo che Qua sotto Faccio un'altra stanza Semplicemente dove vado a mettere I converter E lo smistamento Dei cavi Per non tenerlo a vista Quindi potremmo scendere Volendo Da qui Facciamo una scala Che scende Da qui Non lo so Perché se questa scende Da qua A meno che io non lo faccio Che è proprio tutta scala Sta cosa E quindi scende ancora Di qua E poi gira Eppure potrebbe essere Una buona idea Tipo così Abbiamo ancora Le cover Mi sa di si Andiamolo a prendere un attimo I mezzi blocchi Come si chiamano I mezzi blocchi Ok E li slab Perfetto Slab Slab Facciamo un po' di slab Perfetto Tutto a posto Via Allora Andiamo Andiamo Ho detto Farò un attimo Queste scalozze Interessanti Che sono Che mi possono Appunto Diventare Una cosa figa Allora facciamo così Scala 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 Quanto dovremmo scendere Per farla Diventare Effettivamente E a tutti gli effetti Una scala Che va giù Perché non vorrei Diventasse troppo Troppo lunga Uh Apatite Che diventasse Troppo lunga Da qua Allora Così Ok Così E poi Qui Ok E poi inizia a scendere Beh dai È fattibile Una cosa Poi ovviamente Io sbaglio Ok Ok Ovviamente io sbaglio Quindi diciamo Che esteticamente Noi vedremo questo Che ovviamente Continuerà ancora Per un po' Tipo Penso che tutto il pavimento Qua non ci sarà Perché farà di questa Di questa cosa Allora Qui Scaviamo ancora Qua c'è il telefono Che squilla Chiedo scusa Allora Facciamo così Poi così Così Poi così Perfetto E quindi Il soffitto Quest'ultimo blocco Ci resta Ottimo E poi Dobbiamo scendere Questo non è un problema Perché a questo punto Potremmo Prenderci questa patita Perché questa Ce la prendiamo Ovviamente Ci prendiamo tutto 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 Cosa serve? Mmm Bella domanda Mi sa che abbiamo mai craftato Un cazzo con questa Per il momento Vabbè Quanta cazzo se ne trova Ma è normale Ma che Quanta c'è Mamma mia Abbiamo fatto Quasi Due stack L'altro po' Facciamo tre stack Brothers Ma se la scavo Con la fortuna E Ciao Vabbè Allora comunque Scendiamo A questo punto Una volta scesi qua Facciamo Questa cosa Arrivato qui Facciamo una piattaforma Da quattro E iniziamo a scendere In quest'altra In quest'altra direzione Quindi facciamo così Vi faccio vedere Scendiamo di qua Quindi qua Facciamo una discesa Di uno Poi scendiamo Ancora un po' E bros Ci vuole Anche la stanza sotterranea Anche perché Per prima di tutto Me l'avete chiesta Ma Seconda cosa Perché se no Avendo fatto una casa Comunque Devo dire che Adesso mi piace Esteticamente Ehm Sarebbe un peccato Doverla rovinare Con buchi E quant'altro Per Per dei cavi Quindi scendiamo Di qua Di qua E poi potremmo Scendere ancora una volta Quindi facendo Questa cosa qui Guardate così Ancora quattro E poi scendendo di qua Facendo proprio quindi Un piano sotterraneo Di casa E rimanendo Abbastanza Conformi Allora io andrei A miettare Prima di tutto Qua La sandstone Faremmo Le pareti Abbastanza Uguali Ecco Vediamo come fare Poi la parte di sotto Per il momento Qua voglio lasciare La sandstone Anche di qua Dovrei metterla Quindi Ci vorrà un po' Abbiamo iniziato Ecco il traslogo Brothers Non è una cosa semplice Perché ci dobbiamo Reinventare Tutti i posti Dei macchinari E vi assicuro Che non è proprio Una cosa semplice Semplice Soprattutto quando diventano Tanti i cavi Eccetera 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 Quindi lo sapete Meglio di meno Sicuramente voi Cambierete più Spesso casa Di me Nelle serie Io non l'ho mai fatto La prima volta Che cambio casa E' una novità Effettivamente è una novità Per me E quindi niente Allora brothers Noi ci vediamo Al prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino Ditemi se questa cosa Del piano di sotto Ecco vi piace Perché Può essere effettivamente Comoda Anche per far arrivare i cavi Senza problemi Eccetera Eccetera Da qui Ancora un pochino Così Ok brothers Noi ci vediamo In un prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino Passate dalla pagina facebook Che bro E' fondamentale Quindi Per piacere davvero Andatevi a iscrivere Perché Mi farebbe Un gran piacere E in più Riusciamo a rimanere In Assolutamente In contatto E' quello che io Appunto voglio Rimanere in contatto Con tutti 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 Voi Quindi mi raccomando Iscrivetevi alla pagina facebook Noi ci vediamo al prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino E niente Enjoy E caratteristico con voi Bye bye